Ciao a tutti, nel video di oggi vi mostrerò come nascondere i suggerimenti di Wallpaper nelle foto su iPhone. Se volete rimuovere i suggerimenti di Wallpaper nell'app foto su iPhone con iOS 18, vi spiegherò come farlo. È molto semplice, aprite l'app foto e scorrete fino in fondo. Qui dovete cliccare su Personalizza e riordina. Una volta cliccato, deselezionate la voce U Suggerimenti Wallpaper. Dopo averlo fatto, cliccate sulla X in alto a destra e il gioco è fatto. Se avete trovato utile questo video, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale.